Musica Ingresso in campo New Generation contro Muppet Ultima giornata della regular season del torneo Super 5 Torneo 5 contro 5 dei tornei intergati SK Vediamo le due squadre accompagnate dall'arbitro Sandro Stanziano Disporse al centro-nampo Vediamo qui Un mappetto Non solito completino blu Ecco New Generation Maglia rossa per l'oro Ecco le squadre scorrono per salutare avversari e arbitro Non ci avviciniamo perché a breve ci sarà il tocco palla a campo Tra i due capitani Campo per il New Generation Palla per i Muppet Salute ma qui riprendetevi a breve per seguire tutto il primo tempo Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.